E' un nuovo appuntamento con tutti nel pallone, la ventiquattresima puntata della nostra trasmissione anche oggi come ogni venerdino Noi siamo pronti a presentare il prossimo weekend calcistico partendo come sempre dalla Serie B dove Cosenza e Regina alternano le loro fasi soprattutto dopo il derby che le ha viste protagonista martedì sera alla San Vito Marulla Partiamo appunto dalla Serie B, lo facciamo con l'ospite in collegamento che vi presento subito da Cosenza, Manolo Moscero, buonasera Manolo Buonasera, buonasera a tutti Manolo, allora un derby quello di martedì sera al San Vito Marulla che ha ribaltato un po' le carte in tavola Ci si aspettava una regina pronta a fare la voce grossa, la voce grossa invece l'ha fatta il Cosenza grazie a quei due gol di Nasti praticamente nel recupero Che hanno consentito alla squadra di Viali di ribaltare il risultato e di continuare a sperare nella salvezza Che partita hai visto? Guarda, sicuramente è una partita dove il Cosenza non meritava assolutamente di perdere Perché con tutte le difficoltà che sta avendo in questo momento, in questo campionato Però diciamo che aveva interpretato la partita in maniera giusta Poi si sa, il derby è sempre una partita a sé Però diciamo che il risultato Fino al novantesimo era ingiusto Per fortuna sono arrivati questi due gol Questo ragazzo che promette molto bene E speriamo che questa vittoria al Cosenza possa dare quella fiducia e quel morale che gli serve Per poter cercare anche quest'anno di fare un miracolo Perché purtroppo sono anni che andiamo avanti così Esatto, una Cosenza che ci ha abituato ai miracoli Tra poco ne parleremo Torniamo a quello che abbiamo visto in campo Sicuramente un Cosenza che aveva più fame, più voglia Ad un certo punto la regina è sembrata quasi avere paura Specie quando Inzaghi ha un po' rivisto l'assetto tattico Fuori un attaccante dentro un difensore Se passate a tre, che poi effettivamente è una difesa a cinque Quindi il Cosenza ha preso ancora più coraggio E forse anche con la forza, chiamiamola, della disperazione Di una squadra che non ha nulla da perdere È riuscito a trovare il doppio guizzo di Nasti Infatti in questi momenti proprio quel nulla da perdere Che hai detto tu può essere un punto positivo Perché comunque fino agli ultimi minuti ti trovi sotto di un gol Giustamente magari non è questione di paura Magari un allenatore cerca gli ultimi minuti di coprirsi un po' Perché magari vuole portare in fondo la vittoria Però ti ripeto, poi serve un attimo Il calcio sono dei momenti, degli attimi È stato bravo Nasti sia nella prima occasione Che poi è stata deviata la palla Sia nella seconda perché ha fatto un gran gol il secondo A ribaltare questa partita E l'importante è che la squadra ci abbia creduto Nel senso che non si è abbattuta come hai detto tu È andata all'arrembaggio a cercare il pareggio Il calcio è strano, purtroppo in un minuto puoi prendere due gol È capitato al Cosenza, è capitato in un derby E questo penso che faccia morale Non è facile perché non è facile Sarà una battaglia fino alla fine Però spero che il Cosenza funzioni Ne ha fatti tantissimi come Manolo Moscero Che impressione ti ha fatto questo giovane ragazzo Scuola Milano Insomma che entra dalla panchina e risolve la partita A parte che ieri mattina Combinazione nemmeno lo sapevo Siamo nati lo stesso giorno Il 17 settembre perché ho visto Parlava un pezzo che parlava di lui Insomma dava anche tutti i suoi dati È nato il 17 settembre del 2003 Io sono nato il 17 settembre dell'85 Qualche anno dopo No guarda io È una data che ha in sé qualcosa di affine Con i bomber rosso-blu Io ti devo dire la verità È già da parecchio che dico che è un buon giocatore Non sapevo da dove venisse Però so che si muove bene in campo E quindi mi ha fatto una buona impressione Di quelli che sono lì davanti Penso sia quello più Quello che abbia più caratteristiche Nel vedere la porta e finalizzare Quanto può cambiare in un certo senso Il proseguo della stagione Il risultato di martedì Nell'uno e nell'altro caso Nel caso della Cosenza Che ha ritrovato la vittoria L'entusiasmo Che ha abbandonato l'ultimo posto in classifica E slancio per inseguire la salvezza E anche nel caso della regina invece Che è incappata in una nuova sconfitta Subita in rimonta Insomma con tutti i contraccolpi psicologici Che ci possono essere Il ritiro E tutto quello che ne sta seguendo Guarda la differenza tra Cosenza e Regine È solo penso una Che il Cosenza debba puntare sull'entusiasmo E debba cercare di creare questo entusiasmo Come è successo martedì La Regine è una corazzata Nel senso Sì il morale è importante Però ha dei giocatori dove Possano cambiare la partita Da un momento all'altro La Regine lotta per andare in serie A Il Cosenza lotta per andare Per andare Per rimanere in serie B Quindi il Cosenza ha bisogno di morale Entusiasmo Quando ne concerne La Regine è in difficoltà Ma sono sicuro che L'allenatore Inzaghi Non sia l'ultimo arrivato E sa come deve fare Già dal giorno dopo Nel senso degli allenamenti A preparare la partita successiva Sono purtroppo I derby Sono partite a sé Ci sta una sconfitta In un campo difficile Come Cosenza Sicuramente no In questo momento Dove il Cosenza È in difficoltà Però Ripeto La Regine ha tutte le carte di regola Per andare in serie A E riprendersi E glielo auguro con tutto il cuore Intanto Cosenza Che con questa vittoria Ha abbandonato appunto L'ultimo posto in classifica Una classifica davvero corta Nelle zone calde Può succedere di tutto In fondo Ci sono squadre Che mai avremmo immaginato Di poter vedere Insomma A lottare per la salvezza Però tante ci sono a Benevento Spalla Brescia Lì a lottare per Per rimanere in serie B C'è il Cosenza Che ha fatto Un balzo avanti E che ha A portata di mano Ancora la salvezza diretta Davvero A pochi punti di distanza Sì In questo momento sì Però Sono tantissime squadre Che sono Che sono in pochi punti Quindi Noi siamo una di quelle Però Voglio dire È molto difficile È molto difficile Perché abbiamo Delle partite Difficili Poi la serie B È un campionato strano Basta fare tre vittorie Di fila E ti ritrovi Ad essere salvo Però Questo non è facile Perché noi già Sabato andiamo a giocare a Genoa Una squadra Che è seconda in classifica Gli servono punti Per andare in serie A Noi d'altronte Spero Non renderemo la vita facile A nessuno Perché Fuori casa Abbiamo un rendimento Un pochino Non buonissimo Però Ti ripeto Questa vittoria Può aver potuto far bene Al morale Speriamo bene Quanto ci crede Manolo Moscero In un nuovo Miracolo Rosso-Blu Questa squadra Ormai ci ha abituato A dei finali Di stagione In crescendo Guarda Io più che altro Devo essere sincero Credo in Guarascio Nella sua fortuna Chiamiamola Chiamiamola così Perché sono anni Che il Cosenza Sono tre anni di fila Che il Cosenza Una volta Ha fatto un miracolo Con Occhiuzzi Una volta È stato ripescato L'anno scorso Ha fatto un miracolo Con un allenatore Che secondo me Non doveva Non doveva sfuggire Nel senso Perché sta dimostrando Il suo valore Anche a Bolzano Ti ripeto Ci credo Perché Da Cosentino Il tifoso Ed ex capitano E quanto ne concerne Fa piacere Che il Cosenza Si salvi Però Non è facile Ti ripeto Però ci credo Rose alla mano Valutiamo anche Questo aspetto La rosa A disposizione Di Viali Può competere Con quelle Vedi Spal Benevento Brescia Venezia Tutte le squadre Insomma Che sono coinvolte Al momento Per la lotta a salvezza Guarda Purtroppo C'è chi Magari Ha la rosa Più Più Importante Però Ha dei problemi Societari Come vedi Brescia Non ricordo Quale altra squadra Ha dei problemi Comunque Quelle squadre Che sono lì sotto Magari hanno La rosa Un pochino Più importante Del Cosenza Però hanno altri Problemi Che il Cosenza Per fortuna Non ha Questo è da Questo è da Elogiare Al presidente E alla società Perché Non è in defici Quindi È una cosa Importantissima Nel senso che Vengono pagato Tutto quello Che deve essere Pagato Nei tempi E quindi la società Così non avrà mai Problemi Però è ovvio Che ci fa soffrire Perché Dobbiamo ogni anno Lottare E sperare Per mantenere Questa categoria Che poi penso sia La categoria Che il Cosenza Che il Cosenza Gli compete Non è che uno vuole La Serie A Però magari Non soffrire Fino all'ultimo momento Per rimanere Per mantenere la categoria Sarebbe Ideale Una sofferenza Tale che ha portato A quella che è La contestazione Degli ultimi mesi Soprattutto Delle ultime settimane Ad un San Vito Marulla Di fatti Vuoto In occasione Del derby Che effetto ha fatto A te Che sei stato capitano Di questa squadra E che sei tifoso Di questa squadra A vedere un San Vito Marulla Così Senza i tifosi Rosso-Blu Brutto Molto brutto Una partita sentita Vuol dire che Per i tifosi Non essere al campo Non è stato facile Però sicuramente Il motivo c'è Nel senso Prendere Cinque golle a Como Cinque golle a Ferrara Comunque sono Delle Delle delusioni Per un vero e proprio tifoso Capito Quindi Non dico che sono giustificati Però li capisco Giustamente Hanno preferito Disvertare lo stadio Perché Dice Magari Sono stanco Di vedere queste Però purtroppo Se erano venuti al campo Avevano visto Una grande Una grande Partita Una grande Vittoria Soprattutto perché È stata una grande Vittoria Di baltare i risultati In un derby In due minuti Non è da tutti Solo di una squadra Che ci ha creduto Fino in fondo Dobbiamo dare a Cesare Quel che è di Cesare Quando si prendono Cinque gol Giusto che Ognuno si faccia Mea colpa Ma quando si vincono Queste partite Bisogna dare merito A tutti i giocatori A tutto lo staff A chi ha preparato La partita Dal magazziniere Fino al presidente Grandi meriti Sicuramente Ce li ha anche Viali Che è riuscito A mantenere Concentrata Sul pezzo La sua squadra Fino agli ultimi minuti E che Dopo la partita Ha chiesto Unità di intenti Anche da parte Della stampa Lo ascoltiamo velocemente Poi torniamo a parlare Con Manolo Moscero Io l'unica cosa Che posso dire Quando io Insisto A dire che ci credo E l'ha sottolineato Il collega Vorrei che ci credeste Anche voi Ci credete troppo poco Ho bisogno anche di voi Ho bisogno della gente Di Cosenza Ho bisogno anche di l'alchimia Che è quello che si respira I ragazzi Quando cammino per strada Devo sentire che tutti ci credono E possiamo aumentare Quel Quello Onestamente Abbiamo bisogno Poi io Posso fare di più Lavorare di più Studiare di più Io quello Cerco di fare il massimo Sempre Però abbiamo bisogno Di tutti E che tutti insieme Possiamo credere in questa cosa Difficile Ancora difficilissima Però se ci crediamo Un po' di più tutti Potete tutti Darci una mano Questa squadra Ci sta credendo Cioè stiamo costruendo Qualcosa Di vero Poi dove porterà Non lo so Ma vi assicuro Che sta lavorando Per Per sognare Questo Però La tua domanda È l'esempio più Eclatante I risultati Fanno vedere Tutti questi particolari L'aspetto tattico L'aspetto del gruppo Dell'energia Delle cose Perché per voi Per il resto Le chiacchiere Sennò sono finite Abbiamo bisogno Di vincere Di vincere le partite E come lo giudica Allora Moscero Il lavoro Che sta facendo Che sta svolgendo Viali È chiaro che In questo momento Al di là Dell'aspetto tecnico C'è tanto Da lavorare Soprattutto sulla testa Dei giocatori Vero? Sicuramente Sì L'allenatore Sapeva di non Di non andare A Genoa O a Reggio Calabria O nelle parti Alte della classifica Sapeva che comunque Andava in una piazza Importante Dove Dove ci sono Delle difficoltà Sta cercando In tutti i modi Di tirare fuori Il meglio Penso di Di ogni giocatore È una persona Molto umile La stimo Perché è una persona Molto umile È una persona Di Di valore Penso Perché comunque Non è mai Non l'ho visto mai Andare fuori Dalle righe E quindi Sta cercando Con qualche Neste Qualcosa Di tirare fuori Da questa situazione Il Cosenza Diciamo che Non ci sta riuscendo In tutto e per tutto Però Lo capisco Perché comunque Non è facile E spero che In questo periodo Dopo soprattutto Questa vittoria Riesca ad incanalare Un po' di risultati Positivi Che ci possano Portare Alla salvezza È chiaro Come dicevi prima Il prossimo avversario Il Genoa Che il Cosenza Affronterà lunedì Nel posticipo Di questa 28esima giornata Non è di certo L'avversario migliore Più facile Da affrontare Però è anche vero Che è una di quelle Partite Quella che si giocherà Marassi Che di fatto Si prepara da sola Che non si rischia Di sottovalutare Che non si rischia Di non so Di non preparare Con la giusta concentrazione Avversario Tostissimo Avversario che lotta Per la Serie A Dopo il Frosinone Avversario più accreditato Per la promozione diretta Ma Che cosa dovrà fare Allora il Cosenza Per provare A rendere la vita difficile Al Genoa Di Girardino Cosa dovrò fare Innanzitutto Dovrò andare là Senza paura Perché Questa è la cosa principale E' ovvio Che gioca contro Una corazzata Però queste partite Possono essere Possono essere facili Nel senso Che chi affronta il Cosenza Ma possono essere anche Delle peggiori Nel senso Che se una squadra Come il Genoa Non riesce a sbloccare Il risultato E quanto concerne Poi la partita Si inizia a mettere dura E' ovvio Che il Cosenza Dovrà fare La partita perfetta Secondo me Per portare Punti a casa Però Ti ripeto La Serie B È un campionato strano Quindi Spero Che il Cosenza Vada lì E faccia Faccia il colpaccio Se non faccia il colpaccio Porti almeno Un punto a casa Perché in questo momento Fare punti Soprattutto a Genoa Sarebbe per il Cosenza Fondamentale Per il proseguo Per il finale Rush di questo campionato Perché mancano Undici partite Dieci partiti E fare Fare dei risultati Uno dietro l'altro Insomma Positivi Può fare solo bene Secondo me Se riusciamo a fare Fare punti a Genoa Secondo me Allora sì Che abbiamo Intrapreso la strada giusta E possiamo anche Quest'anno Fare il Miracolo Ti aspetti di vedere Dopo l'explore Insomma Di martedì sera Di vedere Nasti in campo Dal primo minuto Sarà lui a vincere Il ballottaggio Con Zilli Non so Guarda Queste sono Sono scelte Che deve fare L'allenatore Sicuramente L'allenatore Può sbagliare Come sbagliano I giocatori Come sbagliano Gli arbitri Come sbaglia Chiunque Insomma Valuta Durante la settimana Però Penso che Nasti Dopo quello che abbia fatto Sicuramente Avrà una maglia Avrà una maglia Da titolare Perché comunque È normale Che Il ragazzo Adesso È Su di giri Nel senso Ha fatto due gol In un derby Una partita importante Ha regalato i tre punti Alla squadra È ovvio che A livello mentale Sia più pronto Di Zilli Noi l'abbiamo inserito Nella probabile Undici Di Viali Per la sfida Di lunedì È chiaro Mancano ancora Tanti giorni Alla partita Quindi Tante cose Possono succedere Abbiamo ipotizzato Insomma Un 4-2-3-1 Con Micai Tra i pali Rispoli Che dovrebbe vincere Il ballottaggio Con Venturi Quindi Meroni e Baisane Nel centro E Dorazio a sinistra Brescianini Voca a Florenzi Con Marras E Cortinovis Dietro A Nasti Un po' Sulla falsariga Di quella che abbiamo visto Proprio contro la Regina Con Nasti Ovviamente Favorito E di ritorno Di Vaisane In indifesa Potrebbe essere questa? Secondo me Sì Molto probabilmente Sarà questa Può sfruttare Sicuramente Le ripartenze Con un giocatore Velocissimo Come Marras Un buon giocatore Io l'ho visto In queste due o tre partite Che insomma È molto Rigore Rigore A parte Perché comunque Rigori li sbagliano tutti Perché ha sbagliato il rigore Ma Un buonissimo giocatore Un buonissimo giocatore Possono Possono fare Possono fare La differenza Se si copre bene Il Cosenza Di partire Con questi giocatori qua Perché Anche lo stesso Nasti Attacca bene La profondità Cortinovis Ha un buon Un buon piedino Quindi può Annescare Qualche Qualche palletta In profondità Dove Magari con qualche Ripartenza Se riusciamo a mantenere Il risultato In bilico Fino all'ultimo Si può fare bene È un Cosenza Che dovrà rimanere In partita Per tutti i 90 minuti Quindi non fare gli errori Commessi A Como Ma invece Essere attento In retroguardia Come è stato con la regina Dove effettivamente Ha concesso davvero Pochissimo Insomma Quella conclusione di Gori Su una palla ribattuta Poi davvero Poco altro Aveva fatto la regina Nel derby Del San Vito Marulla Manolo Siamo ai saluti Ti lasciamo andare Innanzitutto però Ci piace Ci piace sapere Ci piacerebbe Che tu ci raccontassi Che cosa sta facendo Manolo Moscero E Se e come Quando Lo rivedremo In ambienti vicino Al Cosenza Guarda Io In questo momento Non sto facendo Non sto facendo niente Ho allenato Cioè il patentino D'allenatore Ho allenato i ragazzi Di queste Poli sportive E poi in Calabria Che fino ad un certo punto Poi mi è nata Una bambina Quindi ho preferito Dedicarmi Alla mia piccola Però non ti nego Che mi manca Il calcio A Cosenza Purtroppo Anche se Come avete ben sentito Avete ben visto Ne parlo molto bene Sia della società E di tutti Non ho avuto Quella riconoscenza Che mi aspettava Dopo Dopo tutto quello Che ho fatto Per questa città Ti ricordo Che ho rotto Un contratto Di tre anni In serie B Per venire a giocare In serie D Nella mia città Non sono stato Mai chiamato Anche come ti ho detto Prima Avendo un patentino D'allenatore Forse perché Forse perché Molto probabilmente C'è gente Che Non so Se sia migliore Di me Ma probabilmente Ha qualche altro Interesse La società A farlo allenare Però io Mi accontento Così di quello Che ho Di quello Che faccio Mi alleno Da solo Vado a correre Perché è giusto Che uno si tenga Si tenga in forma E faccio qualche partita Così con gli amici Ma del resto Mi piace guardare il calcio È stata la mia vita E la sarà per sempre Ecco in questo momento Mi godo Mi godo mia figlia Niente di più Niente di meno E sto a casa Di sicuro È un bello Stare a casa Con la famiglia Ma ci auguriamo E ti auguriamo Di vederti presto Sui campi Ad allenare Magari Proprio con I colori rosso-blu Grazie a Manolo Moscia Grazie a voi Arrivederci E noi continuiamo A parlare di serie B Perché non si parla Di solo Cosenza Ovviamente c'è anche La regina Se da una parte La Cosenza Esce Rinvigorito È galvanizzato Dalla derby Di martedì sera Al San Vito Marulla Ne esce Con le ossa Rotte La regina Di Pippo Enzaghi Deciso Subito Dopo la sconfitta Il ritiro In vista Della gara Che domani pomeriggio La squadra Amaranto Affronterà La Granillo Contro Il Parma Gara delicata Che la regina Potrebbe affrontare Con questo 11 Lo vediamo subito Insieme In porta Resta il ballottaggio Fra Contini E Colombi Una Colombi Che nelle ultime partite Ha fatto bene Che ha poche responsabilità Tutto sommato Sui due gol Adinasti Arrivati Nel corso Del derby In difesa Ancora assente Gagliolo Probabile Però il ritorno Dal primo minuto Di Camporese Lo abbiamo schierato Al posto di Cionec Che due abbagli Nella partita Appunto Contro il Cosenza Li aveva presi Con al suo fianco Terranova E sulle fasce Pierozzi Da una parte E Liotti Dall'altra Perché da valutare Ancora le condizioni Di Chiara Centrocampo Sono da valutare Invece le condizioni Di Hernani Quindi Fabian E Maier Ci saranno sicuramente In mezzo Dovrebbe giocare A questo punto Crisetig In attacco Sicuro Il ritorno Di Menez Da valutare Chi lo affiancherà Abbiamo ipotizzato La coppia solita Diciamo Quella più utilizzata Ossia Canotto a destra E Rivas a sinistra Ma le alternazioni Alternative In questo caso Per Inzaghi Sono diverse Alternative Per raggiungere Quali obiettivi Ne ha parlato In settimana Subito dopo il derby Per fugare Un po' le polemiche Per fugare Un po' tutte le critiche Il direttore sportivo Amaranto Massimo Taibi Che ha parlato Senza mezzi termini Di società Che punta Ai playoff Lo ascoltiamo Allora Oggi Parlo io A nome della regina Per affrontare Questo momento Non positivo La società Come spesso Anche ieri Dal mister Ha fissato Il raggiungimento Dei playoff Come direzione Stagionale Io credo Che questa squadra C'è nel DNA Nelle corde La possibilità Di raggiungere Questo obiettivo E affinché Questo possa succedere Dovete essere tutti uniti Uniti Noi I nostri Spendi tifosi E società Detto Detto questo Io credo Che è il momento Di guardarsi Negli occhi Come stiamo facendo In questi giorni Come abbiamo fatto oggi Come faremo in questi giorni Con i ragazzi E lo staff tecnico Tanto che da domani Comunico Che saremo in ritiro Questo ci servirà Appunto per Per far quadrato Per fare Per unirci ancora di più Perché nei momenti negativi Bisogna essere Forti A uscirne Da questa situazione Io sono convinto Che tutti uniti Possiamo raggiungere Il nostro obiettivo E da oggi Ci sono volte a pagina E pensare a Palma Comunque confido In tutti In tutti noi In tutti i nostri tifosi Questa straordinaria Tifoseria La nostra curva Che ci possa Accompagnare In questo tragitto Per cui Forza Regina E stiamo tutti uniti E dopo aver parlato A lungo di Serie B E' il momento Di andare invece A parlare di Serie C Con l'eterna sfida Fra Catanzaro E Crotone Ormai prossima Insomma Ad una soluzione Ne parliamo Con il collega Gianfranco Giovani Di Catanzaro Informa Che è in collegamento Con noi Buonasera Gianfranco Buonasera Buonasera a voi Allora Eterna sfida Ormai quasi Ad un punto di svolta L'atteso derby Si avvicina Manca poco Si giocherà lunedì 13 marzo Quindi davvero Mancano pochi giorni A quella che sarà La partita Chiave Se vogliamo Non tanto per le sorti Della Catanzaro Perché con qualunque risultato Non cambierebbe di molto La stagione Dei giallorossi Certo Sarà una partita Determinante Per il Crotone Che abbandonerà Definitivamente Le possibilità Di poter colmare il gap O invece Continuerà a crederci Ma sì Di fatto La partita Della stagione Si giocherà La prossima settimana Si giocherà Il lunedì Prima però È la conquista Della promozione Sarà un impegno Da affrontare Con il massimo Delle energie Mentali E fisiche È stata una stagione Costellata Da duelli a distanza Quella tra Catanzaro E Crotone La partita Del Ceravolo È stato uno scontro Diretto Che già qualche risposta L'ha data Il Catanzaro Guida la classifica Meritatamente Il Crotone Non ha fatto Un campionato da meno Però i punti Di distacco Ci sono Di certo Si assisterà Ad un bel confronto Poi lunedì Però entrambe le squadre Vogliono arrivarci Almeno lanciate Il Catanzaro Per cercare Di chiudere Il capitolo Il Crotone In extremis Per cercare Di riaprirlo Comunque Di mantenere viva La speranza Fino alla fine Una bella stagione Comunque Per entrambe Le calabresi Assolutamente Sì Una bella stagione Intanto Prima del derby Come dicevi Ci sono partite Delicate Per entrambi Diamo un'occhiata Intanto Alla prossimo turno Con Crotone Che sarà impegnato Si gioca domani Insolutamente Insomma Di sabato Crotone Che sarà impegnato Alle 14.30 In casa Della Picerno Allo stesso orario Anche Giuliano Taranto Messina Monopoli E Pescara Juve Stabbia Alle 17.30 Invece Il Catanzaro Ospiterà Nicola Ceravolo Lavellino E le altre sfide Saranno Andrea Gelbison Foggia Cerignola E Franca Sfide delicate Per entrambi Sfida particolarmente Delicata Quella che Attende Il Catanzaro Alla Nicola Ceravolo Perché Lavellino Non è squadra Facile Gianfranco Da affrontare No Non lo è storicamente Perché è sempre Un avversario ostico Catanzaro E Davellino Hanno sempre Dato vita A delle sfide A dei match Accesi Dei match Soprattutto agonistici Più che tecnici Non lo è Adesso In questo particolare Frangente Perché L'aria che si respira Davellino È certamente Un'aria pesante I risultati Non stanno Dando una mano A Rastelli La classifica È peggiorata Ultimamente Nonostante A gennaio Le aspettative Le aspettative Fossero differenti Nonostante Il mercato di gennaio Avesse dato Magari qualche Spinta in più Agli irpini C'era un'aspettativa Maggiore Anche da parte Della tifoseria Qualcosa è cambiato Ultimamente Si vede nei risultati E c'è la voglia Da parte loro Di ripartire Dalla partita Del ceravolo Certo Il Catanzaro Questo lo valuta Sta con le antenne alzate Come ha sempre fatto Finora In questo In questo scorcio Di stagione E Dovrà farlo Ancora di più Adesso Proprio perché Il derby Si avvicina Si avvicina Con marzo Il periodo Dei verdetti E questa potrebbe essere Una sfida Una sfida Cruciale Una sfida Decisiva Una sfida Che si giocherà Che si giocherà Anche con una cornice Di pubblico Ben nutrita Perché si va Verso Verso il sold out Di fatto Il ceravolo Strapieno Pronto a spingere Il Catanzaro In questi 90 minuti Fondamentali Catanzaro Che intende Perseguire Insomma Il percorso netto Tra le muramiche Ma Catanzaro Che ci arriva Non Con tutto L'organico A disposizione A questa sfida Ci sarà Un'assenza Importante Un'assenza Importante Un'assenza Che Potremmo dire Pesa Però fino a un certo punto Perché Mancherà Capitan Martinelli In settimana Accusato Un problema Al polpaccio Accusato Il solito Problema Al polpaccio Un problema Che si tira Un po' Da Anche dalla scorsa stagione Lo aveva già accusato La scorsa Nello scorso campionato Non ci sarà Anche se Gli esami clinici Che sono stati condotti In settimana Non hanno evidenziato Dei grossi Dei grossi problemi O dei grossi pericoli Non c'è una lesione Però Una lesione muscolare Però Meglio Mantenere Ecco così La cautela Anche in prospettiva Di quella che sarà poi La partita di lunedì Con il Crotone Rimarrà a riposo Martinelli Il suo posto In difesa Sarà preso Da Brighenti Che Lavorerà questa volta Nella Neanche tanto inedita Posizione per lui Di braccetto In una difesa Tre Mentre al centro Ci sarà Fazio Che è già stato Impiegato L'usato sicuro Del Catanzaro Ha dato Finora delle risposte Positive E Vivarini A questo si affida Sostanzialmente Perché Cambia Diciamo la formula Diciamo la formula Della difesa In parte Anche la formula Dell'undici Però Non deve cambiare Finora Non è mai cambiata La sostanza Cambierà qualcosa Nel resto Della formazione Oppure Vedremo per il resto Il solito Il solito Catanzaro Con l'assetto Tipo Vivarini Ci ha sempre abituato A delle sorprese Anche se Gli undici Sono più o meno Delineati Ormai I suoi assetti Di partenza Non hanno mai Mai smentito Le aspettative C'è però Un ballottaggio Che si ripropone Di fatto Ad ogni vigilia Non tanto In avanti Tra Biasci e Curcio Perché Biasci sembra Molto più avanti Rispetto a Curcio Nella scelta Il ballottaggio C'è a centrocampo Dove Verna E Pontisso Lottano per una maglia Entrambi hanno fatto bene In questa stagione Sono due giocatori Però dalle caratteristiche Differenti Due giocatori Che appunto A centrocampo Svolgono Due lavori diversi Ecco Forse il mister Alla vigilia Sta aspettando Sta cercando Di capire Quale assetto Dare al suo Catanzaro E la scelta Tra le due mezzali Tra Verna E Pontisso Potrebbe essere L'ultimo nodo Da sciogliere Prima di scendere in campo Questo per quel che riguarda Il Catanzaro Per quanto riguarda Invece Lavellino Avversario di turno Andiamo a sentire un po' Quelle che sono Le impressioni Della vigilia Di mister Massimo Rastelli Questa mattina In conferenza stampa Sicuramente affrontiamo Una grandissima squadra Che in questo girone Ha dimostrato Una forza Incredibile Lo dicono i numeri Un rullo compressore Per quanto riguarda Naturalmente le vittorie I gol fatti I pochissimi gol subiti E quindi sicuramente Sarà una prova Per noi Di grande Di grande Spessore I ragazzi Naturalmente Dopo Purtroppo L'ennesima sconfitta In casa Hanno Affrontato Questa settimana Con grandissimo Con grandissimo Grandissimo spirito Di sacrificio Li ho visti Voler veramente uscire Da questa situazione Non è che nelle altre settimane Si fossero allenati Diversamente Però C'era forse Un'energia Un'energia Diversa Nel voler Veramente Dimostrare Che quelli Delle ultime settimane Sicuramente Non siamo Non siamo noi E questo era Rastelli Preoccupato In un certo senso Per quelli che sono I numeri del Catanzaro Grande rispetto Per l'avversario Per la gara Che si andrà ad affrontare Alla Nicola Ceravolo Ma forse Queste sono le partite Gianfranco Che più facili In un certo senso È da preparare E da affrontare C'è poco O nulla da perdere Per chiunque Viene a sfidare Il Catanzaro Al Ceravolo Si È strano Però è così Perché di fatto Chi affronta il Catanzaro Affronta questa partita Sapendo che sarà Una partita Non difficile Ma di più Lo ha detto anche Rastelli In conferenza stampa Affrontiamo una squadra Stratosferica Con numeri importantissimi Però Dalle sue parole Emerge anche Un tema Quello Che Lavellino O almeno Diciamo L'idea che Lavellino Si è fatto di questa sfida Un tentativo Per uscire dalla crisi Magari in queste partite In partite così importanti Può uscire Quella motivazione Che In altre Magari fatica Fatica Ad emergere Ricordiamo che Lavellino Ha battuto il Crotone Quindi non è una squadra Da tenere In poca considerazione Da prendere sotto gamba Qualche Diciamo così In casa del Picerno Perché il Crotone Non può più sbagliare Ed è vero Però di fatto anche il Catanzaro Perché i punti di distacco Sono tanti È un buon margine Però ricordiamoci Che la Serie C È sempre un campionato difficile Con tanti ostacoli Quindi nessuno può permettersi Di allentare Neanche di un minimo L'attenzione L'attenzione in campo Il Crotone adesso Avrà un impegno Un impegno tosto Che dovrà affrontare Nella maniera giusta Dimostrando di Preparare Anche Anche da questo punto di vista Il derby In caso di una mancata vittoria E di una vittoria del Catanzaro Di una mancata vittoria del Crotone Di una vittoria del Catanzaro Probabilmente il derby avrebbe Un tutt'altro Tutt'altro aspetto Bisogna Entrambe le squadre Penso che entreranno Per cercare di Preparare appunto La partita di lunedì Nel migliore dei modi Cercando di tirare Di portare a casa la vittoria Sarà poi una lunga settimana Di preparazione al derby Insomma questo turno Anticipato al sabato Con derby che si giocherà Lunedì sera Insomma consentirà Ad entrambe Di poter lavorare poi Al meglio Per quella che sarà La partita del Lezio Scida Davvero una partita Che si Si prospetta E ci auguriamo Bella in campo Decisiva Per quel che riguarda Anche le sorti del campionato Si attende di sapere Che pubblico ci sarà A Lezio Scida Allora Si si attende di saperlo Anche perché le notizie Che ci sono L'osservatorio Ha rimandato Al CASMS Per cercare di capire Se effettivamente Potranno partecipare I tifosi del Catanzaro A questa A questa trasferta O meno Le indicazioni che ci sono Al momento Sembrano Andare verso L'apertura Del settore Solamente Ai tifosi Non della provincia Di Catanzaro Quindi Dei grossi problemi La parola finale Diciamo La decisione finale Spetterà al prefetto La speranza È che si possa avere Una cornice Di pubblico Completa Che i tifosi del Catanzaro Possano accedere Possano partecipare A questo A questo incontro Che ricordiamo Sarà la ciliegina Sulla torta Di due stagioni Importanti Quella del Catanzaro Spettacolare Straripante Con numeri importantissimi Ma anche quella del Crotone Non è da meno Perché anche il Crotone Ha fatto una grandissima stagione E avere un match Così importante Visto da entrambe Le tifoserie Aumenterebbe ancora di più La visibilità Per entrambi i club Quindi sarebbe Sarebbe veramente Una festa Una festa completa Una festa dello sport Che è quello Che ci auguriamo Bisognerà aspettare La prossima settimana Per capirlo Quindi Dopo questo turno Diciamo che gli occhi Si sposteranno tutti Sulle decisioni Del prefetto Grazie Allora A Gianfranco Giovane Grazie per il tuo intervento Ci si risente Insomma Magari in prossime puntate Grazie a te Stefania E noi andiamo avanti Continuando a parlare di Crotone Perché appunto Crotone che scende in campo domani Alle 14.30 In casa della Picerno Della gara Ha parlato Prima ancora Che il tecnico Degli squali Lamberto Zauli Uno dei giocatori Che con ogni probabilità Partirà titolare Nella gara Di domani Ossia Ghian Giotti La partita La prepareremo Come l'abbiamo Sempre fatto Qui Da quando sono arrivato Ci aspettiamo Una gara Rognosa Una gara Molto difficile Perché abbiamo Già iniziato A studiarli E abbiamo già visto Le caratteristiche Loro E quindi Sappiamo già Cosa dobbiamo fare Per andare a vincere lì Lui ha fatto un discorso Quando è arrivato Ha detto che Ce la giochiamo tutti E nessuno Nessuno C'è il posto Assicurato Quindi Diciamo che siamo un po' Ripartiti tutti da zero E lui ha detto Che non è che Ha fatto giocare 11 giocatori Quindi gli altri 12-13 Sono da parte Assolutamente no Quindi Facciamo tutti parte Siamo 25 titolari qua E quindi Chi gioca Gioca L'importante È un unico obiettivo E penso che i ragazzi L'abbiano capito Questa cosa Già dal primo giorno Quando è arrivato Comunque io mi baso Comunque alla classifica E tutti questi punti Che abbiamo fatto Anzi che hanno fatto loro Perché io sto qua Da più di un mese E comunque È tanta tanta roba Perché io Se devo paragonare Il Crotone di quest'anno Con il Bari Dell'anno scorso Dove stavo io Il Crotone C'ha 10 punti in più Minimo E noi L'anno scorso Eravamo primi Con 10 punti Sul Catanzaro Che era secondo Quindi Se il Crotone fosse Nel campionato D'anno scorso Aveva già Stravinto Quindi La parte offensiva La lavoriamo bene I giocatori Sono Di un'altra Categoria Però Durante le partite Non è così facile Basta sbloccarlo Fare un gore Magari poi diventa Un'altra partita È vero che abbiamo creato Tanto l'ultima E quindi Questo ci deve servire Per le prossime partite Con il mister La seconda partita Quindi Lui ci ha fatto Ci ha trasmesso Delle idee Che si è visto Poi anche in funzione Giron con Golemic che non è al meglio E a centro campo La coppia Vitale Petriccione E quindi Il tridente Dietro All'unica punta I tre saranno Chiricò Dursi E Tribuzzi Davvero Qualità Fantasia E anche Grandi doti tecniche Per il crotone Di mister Zauli Che appunto Dovrebbe Riaffidarsi a Gomez Come terminale Offensivo Dopo la gara Disputata L'ultima Invece da Cernigoi Andiamo a sentire Però Proprio il tecnico Degli squali Lamberto Zauli Alla vigilia Di questa Delicata trasferta In casa del Picerno Noi abbiamo fatto Due partite Io la interpreto Così Questo nostro periodo Ho detto ai ragazzi Che punteremo Ad avvicinarci Al Catanzaro Perché è così Che si deve giocare Dobbiamo cercare Di salvaguardare Minimo il secondo posto Anche se sono tanti punti Però noi stiamo facendo Le nostre due partite Parlo delle mie E poi la stiamo analizzando Giorno dopo giorno Analizziamo Una parte Della partita E poi cerchiamo Dello stesso giorno Di Migliorarla E correggerla Quindi ogni partita Per noi È un motivo Di crescita Che si arriva Anche tramite risultato Perché risultato Fa crescere L'autostima Dei giocatori L'autostima Del giocatore Fa tutta la differenza Del mondo Quindi Giocare bene Portare a casa Risultato È il nostro compito Questo è quello Che mi piacerebbe fare Ma è chiaro Che mi sembra Sottinteso dirlo E questo è il percorso Che facciamo Quindi La trasferta di Picerno La considero una trasferta Difficile Non è quella di Francavilla Andiamo in un campo Dove la maggior parte Dei punti Lo fanno in casa È una squadra Allenata bene Per giocare Propositiva E noi cerchiamo Di fare altrettanto Noi abbiamo Un percorso più lungo Perché io l'ho detto A questi ragazzi Abbiamo il compito Di fare i più punti Possibile La squadra Ne ha già fatti Tantissimi Perché è raro Vedendo anche I altri gironi Che comunque È vero che c'è Un po' di rammarico Perché probabilmente Senza probabilmente La società La città Avrebbe voluto Lottare fino all'ultimo Secondo Una prima posizione Però è anche vero Che bisogna guardare Il bicchiere mezzo pieno Perché piangersi addosso Perché non si è arrivati I primi Non ci porterebbe Da nessuna parte Quindi mi piacerebbe Essere lucido Nell'analisi E dire Che questa squadra Molto probabilmente Si è conquistato Un secondo posto Molto importante Che tantissime altre squadre Ancora si devono conquistare Quindi noi dobbiamo Essere intelligenti Furbi Competenti Di cercare di Sfruttare tutto il periodo Che ci manca Per arrivare nel miglior modo Possibile Agli eventuali playoff E se la sfruttiamo tutti Ognuno per migliorare Il piccolo Secondo me Arriveremo ai playoff Mentalmente Fisicamente E considerando L'autostima Delle partite che mancano Cercando di farle tutte Molto bene Arrivare al top Perché quella lì È ancora una possibilità Per cercare Anche di fare il derby Col Catanzaro Che so che è molto sentito In Serie B Beh Per quanto riguarda La partita di Picerno Sicuramente È una squadra Che gioca propositiva Che è sempre fatto Un 4-2-3-1 È una squadra Che è allenata Per le partite Che ho visto Per studiare Questa settimana Le ho visti Giocare bene Si è creata Un'ottima 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 Classifica Sta giocando Con dei giovani Importanti Quindi sta abbinando Risultati E crescita Crescita dei singoli Quindi vuol dire Che stanno facendo Un buon lavoro Hanno fatto tanti punti Perché si stanno giocando La loro classifica Per fare i playoff E quindi sicuramente Non sarà assolutamente facile Andremo a giocare Su un campo sintetico E quindi ci saranno Tante difficoltà Però a noi questo Interessa relativamente Non mi piace assolutamente Parlare di tutto questo Come un alibi Noi dobbiamo cercare Di fare la nostra partita Cercando di giocare Nella metà campo avversare Cercando di farli Palleggiare il meno possibile Cercando di rubare Palloni Importanti Per cercare di fare gol Quello che non siamo riusciti A fare l'ultima partita E questo è il rammarico più grande Quindi alla squadra Ho cercato di trasmettere La responsabilità Di andare a correggere Quello che non è andato Con la Turcia Solo così Io conosco la strada Per cercare di migliorarci Come gruppo Per quanto riguarda La determinazione della squadra Non lo dico Perché lo devo dire Ma vedo sempre ragazzi Veramente Ragazzi dove Faccio delle scelte A forza della domenica E chi non gioca Si allena con una serietà Incredibile Quindi io penso che questo Sia un valore veramente Non dico nascosto Un po' nascosto Però io che adesso Sono lì nella quotidianità Penso che sia un valore Veramente importante Che ci possiamo portare avanti Fino alla fine Non è così scontato E con Zauli Con le parole di Zauli Chiudiamo il capitolo Serie C Andiamo in D E riassumiamo in grafica Quella che è la classifica Della campionato di Serie D È la vigilia Della turno In programma domenica La classifica Vede sempre il Catania In testa Ora con 66 punti Seguito dalla Locri A quota 49 Sant'Agata 48 Lamezia 40 Licata e Trapani 39 Vibonese Santa Maria del Cilento E San Cataldese 34 Canicetti 33 Castrovillari 29 San Luca e Ragusa 28 A Cireale 27 Aversa 24 Città Nova 23 Paterno 21 Mariglianese 17 La prossima giornata Si gioca di domenica In questo caso Almeno un campionato Che resta fermo Alla domenica In questo weekend Giocheranno le altre Tutte di sabato Cosenza a parte Perché scendere in campo Lunedì sera Come abbiamo detto In avvio di trasmissione Le gare di giornata Vedranno Protagoniste le calabresi In tre derby Quindi tre incroci Tutti calabresi Ed in particolare Castrovillari Locri Città Nova Vibonese E La Mezzia San Luca Le altre partite A Cireale e Ragusa Paterno Mariglianese Aversa Santa Maria del Cilento Canicattilicata Sant'Agata Catania E San Cataldese Trapani Noi siamo davvero In chiusura Della nostra trasmissione Non mi resta che rinnovarvi L'appuntamento Per venerdì prossimo Sempre alle 21 Sull'altro Corriere TV Per una nuova puntata Di tutti nel pallone Buona serata Noi siamo davvero 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 Noi siamo davvero